Allora Ambala, fine del ritiro, domani andrete a casa, è stata una partita quest'oggi anche molto intensa, il Ministro vi ha fatto lavorare tanto, come ti senti? No, io mi sento bene, stiamo lavorando bene, la squadra lavora bene, io sto lavorando bene, mi sento bene. Questo ritiro sicuramente è stato buono per voi, perché c'è stato bel tempo, perché avete un campo molto bello, avete potuto lavorare bene, poi tu sei arrivato già allenato. No, io sono arrivato, mi sono un po' allenato a casa e era importante per me presentarmi in questo ritiro in forma. Oggi hai segnato la prima rete, il gol per un attaccante è importantissimo. No, il gol per un attaccante è sempre importante, perché ti dà fiducia anche per le prossime partite. E tu chiaramente vivi anche per i gol? Anche per me, perché è un po' da tanto che non faccio gol e va bene, oggi ho fatto gol e... Sei felice? Un po' dire un po', non tanto, però un po' dai. Dai, un po' felice. Allora, mister Gotti ha parlato subito bene di te dall'inizio, ha detto io l'ho visto due anni fa, era un attaccante che mi piaceva tantissimo, l'anno scorso non so cosa gli è successo, però insomma adesso ti allena e quindi vuole da te tanto. No, mister mi dà fiducia, stiamo lavorando bene, mi sento bene con mister e voglio solo ripagare quella fiducia che mi dà il mister in campo. Allora, 3-5-2, l'anno scorso 4-3-3, l'anno prima 4-3-3, il problema per te è il modulo o avere magari un attaccante più vicino a te può essere importante? No, per me anche avere un attaccante in più può essere importante, perché pure come mister, il modulo di mister è molto sulla profondità, quindi a me piace anche andare molto sulla profondità e mi piace molto questo modulo. Allora, sei molto concentrato sugli allenamenti, sul campo, ma c'è qualche tuo compagno, magari anche dei nuovi, che ti ha stupito in maniera particolare? Ho visto Corvin, quello centrocapista, sì, a me mi piace molto, 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 sì, ha grande qualità e secondo me puoi fare una grande carriera. E anche Olmo mette dei bei cross? Anche Olmo, sì, ha un cambio passo molto importante. Qual è il tuo obiettivo per questo campionato? Il mio obiettivo prima è divertirmi in campo, giocare e poi il gol vengono da solo, prima mi diverto e poi il gol vengono dopo. Bellissima risposta, grazie. Prego. Grazie, Barco. Grazie. Grazie.